Iniziamo la scuola! Ok! Dani a lui! La scuola! Buongiorno! 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 buono bella donno è un po' più lento no ok mandi ma come c'è il tempo si dice questa cosa che registro cazzati andate il motorino bravo 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 ehi 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 non c'è nulla ehi 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 no ehi 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 defining il tavolo anacolo prese guarda l'errore guarda l'errore guarda l'errore guarda l'errore guarda l'errore guarda l'errore guarda, guarda, guarda guarda, guarda 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 guarda, guarda guarda, guarda 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 guarda